Finita il terzo e l'ultimo tempo di questo combattutissimo incontro tra Serenissima San Pio X e base 96. Il risultato è sempre 3 a 1 per la Serenissima. Si sta disputando la seconda giornata del torneo Città di Boviso Masciago. Pulcini 2007 edizione 2018. Indrindetevi un po' voi due. Slavio, occhio, eh. Andiamo, andiamo. Fabi, Giotto. Ema, ema. Brava di lui. Vieni, vieni, Slavio, e prende, prenda. Bravo. Bravo, giù. Non fa la cascata. Ema, non fa la cascata. Stai a te. Stai a te. Stai a te. Stai a te. André, andré, qui. Trambelazione di Ema, Cazzulli, che sfiora il gol. Base 96, occasionissima del base 96, che arriva vicinissimo a ridurre le distanze con il secondo gol. Grazie. 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 momento di confusione il risultato è sempre fermo sul 3 a 1 per la serenissima ci stiamo avvicinando alla metà del terzo l'ultimo tempo André, vieni André, conti, vieni di qua no no stai là, stai là, stai là Lory gioca qua vediamo Ema sempre là davanti devi lottare Ema non so abbassare che te lo porti dietro dai, dai oh facciolo giocare ripiano, rischiare e guarda l'uomo vai dentro Ema quanto manca? non c'è l'uomo, non c'è l'uomo dai Flavio non rischiamo però se non parlate lo mettete nei casini dai Ema! dai, forza, 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 forza forza di gioco del campo da parte del dirigente Mimmo, chiaramente un'invasione volontaria. Si è fatto male alla mano e voleva l'acqua, voleva. L'intruso in campo, è figa, guarda, si è fatto male, si è fatto male. Piccola fase comica della partita. Gran bel gol da parte del base 96, situazione di posizione, un bel colpo di testa, si riducono le distanze, adesso a 3 a 2 per la serenissima. Via! Bravo Lory! Via! Vieni, vieni, vieni là! Vai Lory! Vai Lory! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! Oh! Gocchi, vieni, vieni qui! Vieni, 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 vieni! Vai secondo, Lory! Incelo, Sikrón! Bravo, bravo! Vai, vai! Dai, girati, girati, Lari! Ok, Gatto! Vai, Gatto! E' presa, Gatto, Bocco, le mani! Oh! Uno dei stringi, Flavio, stringi! Stringi, Flavio! Dai, Ponte, andiamo, 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 io dire! Ok, andiamo! Vai, Gatto! Vai, Gatto! Vai, Gatto! Vai, Gatto! Vai, Gatto! Vai, Gatto! Non ci passo più! Gira! Gira! Gira ancora! Gira di là! Ok! Ehi, Gatto! Ehi, Gatto! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Esci, esci, esci Ognuno è su 3 minuti Dai, dai, dai Vieni, vieni, Matti Dai, Matti Non ti fermare, Matteo A letto Uno, vieni via Vieni via Perfetto Filatissima partita Finale 3 a 2 Per la Serenissima Che raggiunge così la seconda vittoria Nelle due giornate Finora Fin qui disputate Forza a tutti Bravissimi ragazzi Ragazzi, dirigenti sempre presenti Oggi non ha piovuto Un saluto a tutti Ciao, ciao, ciao Ema Ciao, Loris I dirigenti sempre impeccabili Oggi sono anche stati i protagonisti di un fuori programma che comunque è andato benissimo Risultato finale 3 a 2 Per la Serenissima San Pio X Alla prossima Sempre serenissima E se lo senti